Nella domenica in cui l'attacco smette di segnare, la difesa smette di subire gol. All'Olimpico contro la Lazio ne esce uno 0-0 che lascia i rossoblù soddisfatti per il punto conquistato e lascia una punta di recriminazione per un fuorigioco sbandierato di Vaio. Corriere dello Sport Stadio. Portanova, Viviano e Morras insuperabili. Le pagelle. Portanova e Viviano 6,5, Morras, Guana, Mudingai, Bombardini, 6, Zenoni, Lanna, Mingazzini, Casarini, 5,5. Adailton, Colomba, 5,5. Zalaieta 5. Di Vaio 4,5. Bologna, il punto che volevamo. Ho appena rivisto l'azione del fuorigioco fischiato di Vaio, beh, l'assistente ha segnalato come fuorigioco che non c'era. Peccato perché nonostante il possesso palla delle Lazio, a tu per tu col portiere avversario ci siamo andati noi. Comunque ritengo che alla fine il pareggio sia sostanzialmente giusto. Ho tolto adailton perché mi sembrava faticato. Al suo posto ho piazzato Bombardini esterno passando al centrocampo a 4, è andata bene. Buoni anche i 20 minuti di Osvaldo. Ho tolto di Vaio perché nell'intervallo aveva avuto un problema intestinale. Osvaldo ha svolto molto bene il suo compito, mi serviva che facesse paura ai difensori avversari e così ha fatto. Poi si è innervosito, e vabbè. Casarini. Bravo, è entrato senza paura, ha aiutato i compagni, mi è piaciuto. Il fine partita ha visto ancora Colomba e i suoi, tranne Osvaldo e Zalaieta, rientrati negli spogliatoi, esibirsi nell'abbraccio di gruppo, con il tecnico che dice un paio di cose fino all'urlo di liberazione finale. È stato un modo per festeggiare senza festeggiare troppo, spiega Enigmatico Colomba, che poi precisa. E soprattutto, quell'abbraccio, un modo per guardare avanti e farlo tutti insieme. Di Vaio. Rabbia per i due errori. Di Vaio Roma, Sponda Lazio, ci è nato e cresciuto. È stata una manifestazione d'affetto che mi ha colpito molto, mi fa piacere che i tifosi delle Lazio si ricordino di me. Lo hanno fatto anche prima della partita, reclamandolo a gran voce, con l'altro ex-mooding guy, sotto la curva. Probabilmente ho sbagliato quando ho saltato Muslera, potevo tirare prima, dopo però, quando ho alzato la testa per calciare, ho visto che c'erano tre giocatori sulla linea. Così ho cercato l'angolo, ma a quel punto era difficile fare gol. È un rimpianto, e non è il solo. Non era fuori gioco, l'avevo capito anche lì in campo, in presa diretta. C'era da Hilton un metro e mezzo da me, gli avevo appena girato il pallone, sarebbe stato gol di sicuro, più o meno come era successo contro la Roma. La partita di Di Vaio è durata 70 minuti, fino al momento in cui Colomba l'ha sostituito inserendo Osvaldo. No, la sostituzione non l'ho chiesta io, ma non importa, quello che conta è che ognuno di noi abbia lottato per un obiettivo comune. Viviano Spavaldo. E ora Ludinese. Emiliano Viviano migliore in campo ieri all'Olimpico. Puntuale sul tiro di Matuzalem, distinto sulla discesa libera di Zarate, d'esperienza sul tiraccio insidioso di Kolarov, tre parate che disegnano la sua partita e il contorno è una serie di uscite tranquille, decise, essenziali. Il punto ci va bene, è quello che volevamo. È un punto che dà continuità alle nostre prestazioni, e questo conta molto. Non era facile giocare contro una squadra che non vinceva da fine agosto, in un ambiente complicato come era quello di oggi all'Olimpico. È una soddisfazione, anche perché questa difesa è andata sotto processo più volte dall'inizio del campionato, e non mi sembra giusto perché meriti ed errori vanno divisi tra tutti i compagni. Dico di più. Si è criticato un giocatore come Portanova, che non è bravo, ma di più. È uno che fa la differenza. Viviano parla anche di mercato. Il mio cartellino è a metà tra Inter e Bologna. Io penso soltanto a fare bene qui a Bologna, poi vediamo quello che succederà. C'è tempo, infine, per pensare già al prossimo impegno. Incontriamo l'Udinese al Dallara, e sono quelle le partite da vincere. In casa abbiamo battuto Siene e Livorno, che come noi dovranno lottare fino alla fine per non retrocedere, più il Palermo. Ecco, dobbiamo vincere anche contro l'Udinese. Sarebbero tre punti pesanti, sono quelli che contano di più quando alla fine si va a fare i conti. E dunque, dopo oltre due mesi la difesa torna a essere imbattuta. E forse non è un caso che questa resistenza all'attacco avversario sia arrivata nel giorno in cui tornava al centro della difesa Vangelis Morse. Schierato un po' a sorpresa al posto di Britos, il greco ha dato sicurezza a tutto il reparto e nel finale di gara, dopo l'uscita di Dibaio, con il vice Mingazzini fuori per infortunio, ha avuto la fascia di capitano. Forse a suo modo ha anche un segnale chiaro per stabilire le gerarchie nella retroguardia. Quando il difensore di Larissa sta bene e non è acciaccato, gioca a lui. Il resto del Carlino Zenoni, un tempo da Grigidi Zalaieta senza artigli Le pagelle Viviano 6,5 Zenoni 5 Portanova 6 Moras 6 Lanna 6 Mingazzini NG Guana 6 Mudingai 5,5 Adailton 5,5 Divaio 6 Zalaieta 5,5 Casarini 6 Bombardini 6 Osvaldo 5,5 Colomba 6 Voto squadra 6 E lo Tito dice no alla festa per i 100 gol di Supermarco. Quel lungo e scrosciante applauso della tifoseria laziale al momento della sostituzione gli ha fatto un piacere enorme, perché la curva Nord non l'ha dimenticato e lo considera ancora un laziale doc. Marco Divaio Marco Divaio abbassa gli occhi e sorride, sì, e per il mio passato. Molto meno gradevole il retroscena nel quale è stato suo ma il grado coinvolto ieri, quando il sindaco Alemanno avrebbe voluto premiare quello romano dei Roma con una targa per i 100 gol in serie e per la sua lazialità, bilanciando così il riconoscimento consegnato a Totti in passato per lo stesso motivo. Tutto pronto e organizzato per la cerimonia all'Olimpico con una sola formalità da assolvere. Il permesso del padrone di casa Claudio Lottito. Non ci penso neanche, sarebbe stata la risposta raggeleante del padrone dell'Elazio. Gesto non proprio garbato nei confronti del sindaco e di Divaio, la testimonianza di una situazione di nervosismo oltre il livello d'allarme rosso. In campo anche nudo. Dopo i cinque gettoni dello scorso campionato e le tre panchine di quello in corso, per Federico Casarini è arrivato il debutto stagionale. Inatteso, visto che a propiziarlo è stato l'infortunio di Mingazzini. Sono entrato in campo a freddo, dice ma pura di giocare sarei entrato in campo anche nudo. Torniamo a casa con un punto, dunque è andata benissimo. Stato d'animo? Sono emozionato, ma contento. E con questo punto lo saremo tutti di più anche martedì, quando ricominceremo a lavorare a Casteldebole. Casarini è contento, ma le ombre sul suo futuro prossimo restano. La società si stava già muovendo per trovargli una collocazione in prestito a gennaio. Senza entrare nel merito, il ragazzo fa capire che il problema si pone. Sono valutazioni che dovranno fare la società e il sottoscritto. E qui c'è il colpo di teatro di Francesco Maglione, che entra in teckel nel bel mezzo della conferenza stampa improvvisata del centrocampista Rosso Blu. A Casarini chiedono. A gennaio potresti andare a fare esperienza altrove? Nessuna nuova esperienza, scolpisce Maglione. Come dire? Casarini resta qui. Anche Colomba, cinque minuti dopo, offrirà il suo contributo al gustoso siparietto. Maglione ha confermato Casarini? Casarini innanzitutto lo confermo io. Anche rispetto alla collocazione in campo. Per me l'ideale è giocare in un centrocampo a tre, ma se serve faccio anche il portiere e... Intanto restano da valutare le condizioni di Minghezzini, diffidato, ha rimediato il giallo che farà scattare la squalifica, uscito per un risentimento muscolare a polpaccio sinistro, e raggi, che ha rimediato una contusione alla gamba sinistra nella rifinitura che lo ha costretto a saltare il match. La Repubblica. Divai ho cuore beffa, ma va bene così. Ho sbagliato, dovevo tirare prima. Poi però ci ha fermato l'arbitro. Guai muscolari per Minghezzini, oggi esami. E intanto salterà l'Udinese per squalifica. Casarini. Che gioia esordire, avrei giocato a nudo. Il commento. Quattro attaccanti, zero tiri in porta, nessuno è guarito. Un pallido pari contro gente in crisi. Le pagelle. Portanova autorevole, mora slieto ritorno. Guan e Mughingai reggono la baracca. In difesa, anche Zenoni e Lanna non sbandano. In mezzo, buono l'esordio stagionale di Casarini.